Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Morto? Nooo, mi ha rubato la palla, vai vai prendila! C'è nulla da spaccare, l'altro gadget è meglio. Qual è l'altro gadget? Con calma guys, super extra mentality because we can. Siamo con una Ems e un Edgar Va bene. Ah, c'ha Ems Argento 2. La difficoltà è letale! Ecco, difficoltà letale, comincio ad avere un po' paura Non so dove siano i robot ma non abbandono la cassaforte, ho paura di qualche porcata Bella lì in ondata 2 Aspetto Se c'entra questo lo pompo Va cagare dai Ecco qua Ha giocato veramente bene E TORO! Cosa? Questa è la giocata bene Esci dalla squad? Già fatto Bene dirò i signori in ogni tempo e poi dirò parco No, dov'è continuarla No, dov'è continuarla Volevo accettare quel link lì? Mi dà un secondo Sì Dov'è che lo vedi raduna tutti? Io non ce l'ho raduna tutti Sì in alto a destra Ah Godo, godo, godo Lo pusho Morto Buono, buono, buono Eh, c'è l'ho al 9, c'è l'ho al 9, ci sta Fortissimo Fortissimo no, però fa male No, non basta ancora dobbiamo arrivare top 2 C'è cara, attenzione a cara, attenzione a cara Che cazzo è cara? Questa qua Ho fatto malissimo Ti prego scappa non morire Atara no cara Eh, ma ci c'è polpettoso in lobby con noi Eh, non dobbiamo più giocare a raffagemme? Sì Io comunque ho Sconfigge 9 nemici nel raffagemme, quindi vai, metti pronto Ok Sì, l'auto aim con 8 bit è terribile L'auto aim con Byron è terribile L'auto aim con Colt è terribile È tutto terribile Ok, ma ha capito Non ho capito niente, cosa c'è Nettuno, dimmi Vabbè niente, ora vedrà Bravo Nettuno Cosa si accorgerà? Non facile, non facile Eh sì, in realtà un bug è quello delle granate che stiamo cercando di fixare Ah! Peccato per la pompata non è entrata Peccato, sì c'è un problema intanto si vedono delle granate Ci posso anche provare? Sì, chi cazzo sei? M-PER-E-RA-MA-TA-JO-O-Oh! Wow! W-W-O-Oh! Perc***o No, easy Sto blu, ne ho detto Easy È morto? Sì, ci sta 19 ne hanno Vostra madre, su che cazzo a 19 persone? così mi mancano 82 trofei nettuno 82 c'è un sacco di power up 19 stiamo prendendo non abbiamo preso no calmo torna 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 ci rompono ci rompo dio ecco l'ha fatto il giro chi è poi chi è questo qua mi ha distrutto un secondo attenzione io spero che tua madre venga scoppata in questo momento mentre tu stai giocando col tuo cellulare di merda del quale hai chiesto dei soldi a quella che viene scopato sì ma non lo vende a 30 mila pingu non lo vendi sono pronto a perdere dei soldi ma renderlo 20.000 oi satana 20.000 basta non c'è problema di parlare il furgone porca merda mentality non so cosa dire non so cosa dire i lupi che volano adesso però allora no voglio farvi una bet no no voglio farvi voglio farvi una bet serissima ragazzi beccatevi beccatevi la bet già della giornata che un poco la facciamo ragazzi signori io vi betto questo e essere cose strane che succedono cose strane ho bisogno di un aiuto se no non riesco arrivo ho notato scappo e sono morto scappo 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 non ha senso morire ok torno centrale a provarci è quello ha fatto il giro chi è poi chi è questo qua mi ha distrutto un secondo attenzione io spero che tua madre venga scoppata in questo momento mentre tu stai giocando col tuo cellulare di merda del quale hai chiesto dei soldi a quella puttana che viene scopata attacchioni in questi giorni si è senza esagerare troppo ma allora non arrivo più con la pancia esplosiva come quando era un ragazzino si però mangio c'era quella c'era sempre tutti i giorni nella pancia esplosiva davvero sempre noi o no che succede perché fa così che fa che cosa non vedo l'ora di scarpettare raga 4 mentali t merda guarda che tarpe ma io guarda che non escludo che nella mia azione che potrei trovare gente con cui giocare determinati tornei ne ho già visti due o tre forti a 12.000 coppe su brawl 12.100 o l'agguato è brutto l'agguato brutto brutto è sì mk 47 nel reboot ci hanno visto ma noi stiamo ruotando non si faccia prendere porco diaz porco diaz porco certo dal vader potrei non farcela io lo sei prati ma resti tronzi no via 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 brutto 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 oh bello lisin qua l'agguato qua l'agguato qua l'agguato da fare in culo pezzi di merda da casa quelle buttane che vanno messo al mondo a fare in culo l'agguato